Mi scusi buon uomo? Mi sa dire l'ora per favore? Dei 5.35 Ma è sicuro? E' 36 mo Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino, eh? E no? Senta, mi sa dire che io le sono adesso? Androrta Le 7 e un quarto E' un Ma sono le 7 e un quarto spaccare Incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino? Scusi No, io le arzo Sotto c'è il campanile, vedi? Siamo lì 7 e un quarto